Con i dati sull'inflazione degli ultimi mesi stanno aumentando le probabilità di recessione nei principali paesi sviluppati, mentre le banche centrali sono all'opera nel tentativo di contenere l'inflazione con poco successo fino ad oggi. In questo contesto andiamo ad analizzare nuovi dati e a fare un update dell'ultimo video uscito lo scorso aprile che vi facciamo apparire qua in alto nel caso lo avviate perso. Io sono Davide Ravera, sono un consulente finanziario indipendente e sono un creatore di contenuti qui su YouTube. La scorsa settimana ha fatto particolarmente scappore il rialzo dei tassi di interesse di 75 punti base da parte della Fed che è stato il più grande rialzo dal 1994. Andiamo quindi ad analizzare la situazione americana per aprire il discorso inflazione. Vi ricordo che potete lasciare un like al video per supportarci e far vedere il video a più persone inoltre se siete nuovi sul canale potete iscrivervi cliccando sulla campanellina per non perdere di più neanche uno dei video di parliamo di investimenti. L'ultimo report del CPI è uscito il 10 giugno e con grande sorpresa ha visto ancora una volta crescere l'inflazione negli Stati Uniti. È sempre comunque importante andare a interpretare e comprendere questo report per capire anche la direzione che può prendere una banca centrale. Infatti facendo un primo parallelismo con l'eurozona la situazione americana è abbastanza differente. Vediamo come in Europa l'inflazione dipenda fortemente dal settore energetico mentre negli Stati Uniti la differenza di crescita di prezzo di altri beni e servizi rispetto all'energetico è inferiore. Infatti l'inflazione core che esclude il cibo e l'energia dal computo dell'indice è pari al 6% contro un CPI complessivo dell'8.6%. Dall'altra parte in Europa abbiamo un CPI core del 3.8% sicuramente sopra il target del 2% ma non in modo così preoccupante come negli Stati Uniti. Il problema dell'inflazione europea è fortemente dipendente dallo shock energetico dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Questo shock è sicuramente percepito negli Stati Uniti ma in parte minore. Allo stesso tempo le politiche monetarie e fiscali maggiormente espansive del periodo pandemico hanno alimentato la domanda sul territorio americano con un incremento più generalizzato dei prezzi. Ma quindi possono gli Stati Uniti combattere questa situazione? Non completamente come vedremo. Andando infatti a vedere il report dell'ultimo CPI vediamo che il cibo, l'energia e il costo del trasporto sono il maggior problema dell'inflazione con un aumento dei prezzi in doppia cifra. Questi tre componenti vanno a coprire quasi il 40% del CPI in termini di peso. Se andiamo a fare una media pesata di questi tre elementi da soli giustificano un'inflazione del 5% circa. Cosa vuol dire? Che escludendoli l'indice registrato sarebbe inferiore al 4%. È semplice intendere che quindi il problema è fortemente dipendente da questi che poi possono impattare anche altre tipologie di beni. Banalmente ad esempio il costo elevato dell'energia sarà passato nel costo finale di altri beni e servizi. Può la Fed quindi risolvere questo problema? Il movimento del prezzo del cibo ha i suoi driver e non saranno quindi tassi di interesse più alti ad abbassare nel prezzo se non il cambio dei driver che possono essere il meteo, la disponibilità di terreno per la coltivazione, la disponibilità di fertilizzanti, il costo delle materie prime utilizzate nel settore alimentare e così via. Non sarà quindi un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti a risolvere questa situazione. Per il settore energetico la situazione è molto simile. Si tratta di una componente estremamente volatile dell'inflazione e lo shock attuale è determinato dalla guerra in Ucraina insieme ad anni di investimenti mancati all'interno del settore. La riduzione della disponibilità di combustibili fossili non è stata adeguatamente sostituita da alternative come possono essere l'energia solare, eolica o nucleare. In questo scenario ci troviamo davanti, escludendo recessioni mondiali o lockdown, a danni di probabili rialzi dei prezzi dell'energia, perché investimenti fatti oggi avranno bisogno di anni per portare risultati importanti. Certo, una soluzione sul fronte di guerra potrebbe portare a un ribasso dei prezzi dell'energia sul breve termine, ma poi il trend potrebbe essere di rialzo nel corso dei prossimi anni. La situazione auto è particolare, in quanto il problema principale è la produzione di auto che non aumenta. In primis c'è una mancanza di chip. La situazione chip per le auto è problematica perché non hanno bisogno di chip all'avanguardia. E voi direte, meglio? In realtà no. Infatti i chip utilizzati tendenzialmente costano poco, perché semplicemente la capacità di produzione all'avanguardia è diventata con il tempo obsoleta e quindi gli stessi macchinari sono stati riutilizzati per questa produzione. Questo significa che gli investimenti sono già stati ampiamente ammortizzati e il prezzo dei chip può rimanere basso. Ora varie aziende, con la carenza di disponibilità di questa tipologia di chip più obsoleto tra i 28 e i 65 nanometri, hanno annunciato nuovi investimenti per incrementare la produzione di questi. La domanda è rappresentata per il 40% appunto dal mercato delle auto. Il problema qual è? Con nuovi investimenti il prezzo dei chip potrebbe addirittura salire perché ovviamente la vendita dovrà giustificare i costi iniziali di investimento e questo potrebbe addirittura portare una maggiore pressione al rialzo sui prezzi delle auto. In secondo luogo i costi delle materie prime utili per la creazione di batterie come nickel, cobalto e litio sono in estremo aumento. In particolare il prezzo del litio è più che quadruplicato nel corso dell'ultimo anno. Le previsioni è che la pressione su questi prezzi possa continuare nel corso dei prossimi anni con l'aumento della domanda e un minore incremento della produzione. Una ricerca di McKinsey prevede un aumento della domanda del litio del 25% anno fino al 2030 contro un aumento della produzione del 20% anno, uno scenario che se dovesse verificarsi sicuramente non può abbassarne il prezzo. In generale in questo momento si producono meno auto del necessario e si stima una domanda che è un 50% superiore rispetto alla produzione. Questo vuol dire che per i prossimi anni sarà praticamente necessario distruggere e dimezzare la domanda per soddisfare tutte le persone che sono già in fila ora per la loro auto insieme alla nuova domanda che si verrà a creare. Molto difficile che quindi anche per le auto i prezzi possano andare a ribasso nel breve periodo. Per questi motivi se la Fed vuole davvero portare l'inflazione al target del 2% deve veramente cambiare qualcosa dal punto di vista geopolitico, qualcosa che possa perlomeno allentare la tensione dal punto di vista energetico o altrimenti sarà necessario puntare a un ribasso dei prezzi per buona parte dei componenti del CPI per riuscire ad arrivare a questo target. Questo può essere raggiunto solamente portando l'economia americana verso una recessione. La scelta della Fed va in controtendenza rispetto a quanto detto prima. Infatti diversamente rispetto a quanto fatto in precedenza, dove ogni politica era sempre stata comunicata con ampio anticipo nei meeting precedenti, ha deciso di portare avanti un rialzo dei tasse di interesse di 75 punti base. Questo è il più grande rialzo dal 1994 e dopo gli ultimi risultati del CPI era comunque atteso dal mercato. A mio parere la Fed ha voluto dare un segnale forte, ovvero la volontà di mostrare che è disposta anche a misure forti per riuscire a calmare l'inflazione. Resta il problema legato alla forte globalizzazione della catena di approvvigionamento e la probabile necessità di una recessione per poter abbassare i prezzi di cibo, energia e auto, perché altrimenti non saranno le sole politiche della banca centrale americana a smuovere questi prezzi. Che dovranno quindi a. Calmarsi a seguito di un rallentamento della domanda aggregata e un miglioramento della situazione della catena di approvvigionamento. Oppure b. Più drasticamente provocare una recessione che porterà a un rallentamento economico e di conseguenza un ribasso di questi prezzi. Quello che è certo è che la situazione è più complessa di quanto non potesse sembrare pochi mesi fa e per portare l'inflazione al target del 2% non basterà puntare alle politiche monetarie ma servirà anche l'aiuto di fattori esterni. Nello scorso video avevamo parlato di un'economia americana che ancora non segnava particolari problemi facendo riferimento ai leading indicators. Penso ora sia interessante andare a vedere i risultati degli ultimi mesi che al contrario sono risultati leggermente negativi e ora potrebbero puntare nella direzione di una recessione. L'indice degli indicatori leading a maggio ha segnalato un rallentamento della crescita economica. Il lei che rimane vicino comunque al suo recente record è sceso a maggio dello 0,4% per il secondo mese consecutivo. Questo va a indicare che l'economia ha rallentato in risposta all'inflazione elevata e all'aumento di tasse di interesse. Come regola generale tre cali mensili consecutivi sono considerati un forte segnale di recessione. Il leading indicator index ha 10 componenti di cui avevamo parlato nello scorso video e i più deboli a maggio sono stati le performance dell'S&P 500, le concessioni edilizie e le aspettative dei consumatori. I nuovi dati puntano una crescita debole sul breve termine e in generale un peggioramento delle aspettative. Un punto interessante è anche estrapolare le aspettative del comitato della Federal Reserve dalle proiezioni date nel corso dell'ultimo meeting rispetto alle proiezioni che erano state rilasciate nel meeting di marzo. Prima di tutto i risultati della crescita del pilo atteso escludono al momento una recessione. Anche andando a considerare il range, quindi le previsioni di tutti i componenti del comitato Fed, la previsione più bassa di crescita reale dell'1% nel 2022 e dello 0,8% nel 2023 non fanno pensare a una recessione. Questo è comunque negativo se confrontato con le stime di marzo quando le attese erano per una crescita del 2,1% nel punto minimo del range rispettivamente. Questo potrebbe voler dire che la Fed non si attende una recessione o più semplicemente che le proiezioni sono per ora spostate al ribasso ma non in modo drastico per non causare eccessivo panico all'interno dell'economia. Un secondo spunto interessante è che racconta molto della visione della Fed legato al core PCE rispetto al PCE. Il PCE è il principale indice di inflazione utilizzato dalla Fed. Infatti se l'indice che considera il tasso di inflazione complessivo risulta superiore all'indice core che esclude energie e cibo, stiamo implicitamente dicendo che la crescita di questi prezzi sarà maggiore rispetto alla media pesata degli altri componenti dell'indice. Se questo è ciò che sta succedendo e viene confermato per le proiezioni del 2022, nel 2023 e nel 2024 la storia cambia con un punto mediano in cui il core PCE è più basso dell'indice complessivo. Questa è la cosa che mi ha lasciato più stranito. In qualche modo la Fed sta pronosticando una normalizzazione della situazione energetica che sembra molto lontana dall'avvenire ed è questo il motivo per cui probabilmente all'interno dei numeri non viene ancora concepita una recessione perché l'attesa è che il prezzo dell'energia possa calmarsi entrando nel 2023. In un confronto con l'eurozona vediamo comunque che gli Stati Uniti si trovano in una situazione di inflazione che si allarga anche ad altri beni e servizi ed è questo il motivo per cui la banca centrale americana sta attaccando l'inflazione in modo più aggressivo e più rapido rispetto alla BCE con la Lagarde che comunque continua a ribadire che ci sarà un doppio rialzo dei tassi di interesse a luglio e a settembre. Il Regno Unito è il primo paese che ha iniziato il ciclo di politiche restrittive e potrebbe essere il caso studio delle principali economie mondiali. Nell'ultimo meeting la scelta di alzare i tassi di interesse di solo 25 punti base ha fatto discutere con tre membri del comitato della Bank of England che avevano votato per un rialzo di 50 punti base. Karen Ward, stratega per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa di JP Morgan, ha dichiarato che a suo avviso un rialzo di 50 punti base avrebbe inviato il segnale più appropriato di una banca centrale pronta a combattere l'inflazione. È possibile che agendo con cautela oggi la banca centrale sia costretta a fare di più in futuro. A preoccupare ora sono le aspettative di crescita per il prossimo anno con il Regno Unito che secondo l'Ocse dovrebbe presentare la crescita economica più debole tra i paesi del G7. L'inflazione è qui per restare almeno per il 2022 o finché non si risolvano i problemi legati al settore energetico, al settore alimentare e a tutta la catena di approvvigionamento. In questo contesto le varie banche centrali possono operare limitatamente. Certo la domanda è controllabile ma buona parte dei problemi che portano a una situazione di inflazione sono difficilmente risolvibili attraverso politiche monetarie come ad esempio l'aumento di prezzo dell'energia arrivato tramite una distruzione della catena di approvvigionamento e la totale mancanza di visione su questo tema soprattutto da parte dell'Europa, la carenza di microchip che poi va a impattare il settore automotive e la produzione di nuove auto, il litio che quintuplica di prezzo e va direttamente a colpire il costo delle batterie e di conseguenza il costo delle auto e queste sono una serie di sconfitte da parte delle principali economie mondiali che nel corso degli anni dovranno cercare di risolvere queste problematiche attraverso politiche volte a investimenti tattici in questi e altri settori per venire fuori da una crisi provocata da una debole struttura energetica e in particolare di approvvigionamento. Se il video vi fosse piaciuto potete lasciare un like per supportarci e far vedere il video a più persone. Inoltre se siete nuovi sul canale potete iscrivervi cliccando sulla campanellina per non perdervi più neanche uno dei video di Parliamo di Investimenti e potete venire a visitare anche il mio canale, anche io ho un canale personale e lo trovate nel titolo e noi ci vediamo in un prossimo video qua sul canale di Parliamo di Investimenti. Alla prossima, un saluto a tutti, ciao ciao!